Due le gare giocate, sei punti collezionati, vetta della classifica nel girone A di eccellenza a punteggio pieno in compagnia di Barletta e Sansevero. Dopo la vittoria casalinga all'esordio contro la Real City, il Corato si è concesso il bis battendo 2-0 la matricola a Borgo Rosso, sul sintetico del Paolo Poli di Molfetta, Massimiliano Olivieri per il momento però preferisce evitare di considerare troppo i numeri. La classifica in questo momento non bisogna guardarla, siamo all'inizio, il campionato è lunghissimo, ci sono tante variabili in questo momento che ti possono far cambiare situazioni. Noi dobbiamo lavorare settimana dopo settimana, non fare progetti a lungo termine, il nostro obiettivo è quello dei tre punti ogni domenica, noi bisogna rapportarsi su a quella settimana. Per il resto i conti li fanno gli altri, gli ingegneri, i commercialisti, noi siamo operatori del campo e dobbiamo tenerci a quello che succede durante la settimana, prepararci bene per affrontare col piglio giusto tutte le partite, a prescindere che sia prima della classe o ultima della classe perché in questo campionato squadre e cuscinetto non ce ne sono. Ha vinto le prime due gare di campionato, ha superato il primo turno di Coppa Italia di Lettanti, il Corato, il primo segmento di stagione in attesa di test più complicati. Sembra essere incoraggiante per i Neroverdi, il cammino da percorrere in ogni caso è ancora molto lungo e prevede come prossima tappa l'impegno interno contro l'altra squadra del raggruppamento che è stata ripescata la scorsa estate, il Canossa di Davide Papagni. Si giocherà sul neutro di Ruvo di Puglia domenica a partire da ore 15.30 in quanto i Coratini non disputeranno più le gare casalinghe al Sant'Angelo dei Ricchi di Andria nella testa dei Neroverdi a prescindere dalla sede di gioco. Esiste in questo momento una sola priorità, continuare a vincere.